Ciao bella, oggi il video del mio allenamento completo Sono in palestra, guardate in diretta Mettetemi un bel pollice in su Vi farò vedere tutto 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 E tanti esercizi che potete fare anche a casa vostra Sarò sto come un peperone Allora per riscaldamento 5 minuti di ellittica Questa qua, non di più Se siete a casa, 5 minuti camminata Oh no, adesso Camminata sul posto, con saltelli Qualsiasi cosa, saltelli, ballate, quello che volete Basta che vi riscaldate 5 minuti Questa qua, non di più Questa qua, non di più Questa qua, non di più Perti in fuori e spalle giù Giù, giù le spalle Perti in fuori Giù, 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 giù Sali Ok Ok Grazie a tutti 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 Noi non abbiamo segreti con voi Come vedete vi abbiamo portato proprio in palestra Vi abbiamo fatto vedere quello che facciamo Anche se questo non è tutto Noi ogni giorno alleniamo una parte diversa del corpo Quindi Se volete vedere un altro giorno di allenamento Se vi piacciono questi video mettete tanti like così ve ne facciamo tanti altri E speriamo che possano sfronarvi a darvi la voglia, la carica, l'energia per andare in palestra e per allenarvi anche a casa Avete visto tanti esercizi si possono fare anche a casa Se volete vedere gli esercizi fatti in casa noi abbiamo fatto diversi video se non ero 4 o 3 o 4 3 Nenzi è più formata di addominali e vi lasciamo tutti i link nei box informazioni mi raccomando tanti tanti like per allenamenti e quindi vi mandiamo un bacio grande Perdonate l'aspetto ma siamo veramente Cioè siamo così Spinite K.O. dalla palestra Tanti baci Ciao 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 Ciao